Una festa di bentornato dedicata a Mattia, che ora è fatto di carta, colorato a matita, e ha una divisa da supereroe tutta sua. Il Laboratorio di Contaminazione Culturale Spunk di Barbara ha ospitato Mattia Mattita, un'occasione speciale per venire a conoscere lui e i suoi compagni d'avventura, Polpetta e Puma. Un'iniziativa bellissima che permette di fare sentire ancora in mezzo a tutti noi Mattia Luconi, il bambino di soli otto anni morto due anni fa nella terribile alluvione. Non mi sembra vero perché era nata come un'idea, veramente un sogno e poi Veronica ci ha voluto credere e insieme qualcosa stiamo riuscendo a fare. E questo è un percorso che probabilmente andrà avanti per tanto tempo perché insomma poi di storia da raccontare ce ne avete tantissime. Sì, l'intenzione è di farlo uscire con una certa cadenza proprio per dare una continuità a questa cosa. Che effetto ti fa Tiziano? Beh, è dare un senso logico a quello che è successo che di logico non ha niente ed è un cercare di scuotere le coscienze e lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi. Appunto i destinatari di questo progetto, di questo sogno. Da questo momento tanti bambini potranno rivivere Mattia e lo faranno per sempre? Sì, e Mattia vivrà con loro, rivivranno le avventure, avranno nuovi sogni, nuovi progetti. Dopo l'apertura dei locali la giornata ha previsto il mercatino del baratto dei bambini dove chiunque ha portato i propri giochi, libri e altro da vendere e barattare per divertirsi insieme. E poi i laboratori, quello sensoriale con l'arte terapeuta Eleonora Ilari per tutte le età e il laboratorio di fumetto con Veronica Genisse Conti dai sei anni in su. Per quanto riguarda il fumetto che è uscito oggi, la mia intenzione era quello di presentare Mattia nella sua integrità, quindi quello di un bambino allegro, birichino, autistico, appassionato di natura. Quindi io ho messo tutto questo buono e bello di Mattia in queste otto pagine che ho disegnato per l'occasione. E poi cosa ci racconterà in futuro? La cosa a cui sto lavorando adesso è il libro che uscirà a Natale, è una storia, un'avventura. Grazie al lavoro dell'illustratrice Veronica Genisse Conti, le avventure di Mattia rivivono i nefumetti che raccontano i rapporti del bambino con i compagni di classe, con i suoi amici gatti, i viaggi in motorino con il papà Tiziano e tantissime altre occasioni in cui comunicava le sue emozioni. E poi oggi è stato bello rivedere i compagni di scuola di Mattia? Sì, moltissimo. È stata un'emozione vederli partecipi e felici di questo progetto. È stato inoltre possibile leggere e prendere copie inedita dove Mattia Mattita fa le proprie presentazioni con qualche pagina che farà ridere e soprattutto riflettere. A chi vuoi dedicare questa bella iniziativa? Beh, prima di tutto a Matti e poi a tutti i bambini.